Lunedì 8 agosto, quinta edizione di Da Porto a Porto, nuotata in mare non competitiva di 22 km e organizzata dall'Associazione Tumori Toscana per raccogliere fondi. L'evento è realizzato con il supporto della polisportiva Amatori Prato e quest'anno vede anche la partecipazione come nuotatrice e non solo come madrina di Pamela Villoresi. Partiremo da Porto Ercole, ci saranno tante barche al seguito, più di 55 nuotatori di cui 14 verranno a fare i 22 km intorno all'Argentario. Sarà una impresa perché effettivamente è una distanza molto lunga però i nuotatori sono spinti dall'entusiasmo e dalla voglia di farlo anche perché lo facciamo a scopo di beneficenza. Nel 2021 sono state 1260 le nuove attivazioni di assistenza, il 60% a Firenze, il 30% a Prato e il 10% a Pistoia con un incremento del 20% dovuto alle conseguenze della pandemia. In particolare, da Porto a Porto sarà finalizzata a potenziare il progetto Prelievo Plus per effettuare i prelievi ematici direttamente a casa dei malati. La richiesta di questo servizio è aumentata del 10% ma anche per dare risposte concrete e immediate alle richieste di aiuto psicologico da parte dei malati oncologici e dei loro familiari, in particolare a quelli degli adolescenti che convivono con un parente malato. Questa è una manifestazione sportiva molto importante per la finalità perché veramente va ad aiutare un'associazione che fanno un'opera che è impagabile e già questo basterebbe per dire che a queste cose le amministrazioni devono stare vicino.